Nella pienezza dei tempi Gesù nasce a Nazareth. Per secoli il popolo ebraico prega per la venuta del Messia al suo arrivo non è accettato, le porte sono chiuse. Sono chiuse perché a prescindere che non sanno che è il Messia o non lo vogliono sapere, però era una famiglia povera e per giunta una donna che poteva dar fastidio perché era in attesa di un figlio, se avesse bussata a quella porta un signore con un portafoglio pieno di soldi, la porta si apriva. Cos'è la situazione oggi in Italia e nel mondo? Dobbiamo dire che se parliamo di Natale, parliamo di nascita, la società moderna non stima troppo la nascita ma vuole la morte e quindi se noi diamo un'occhiata superficiale di come si vive nel mondo vediamo che ci sono guerre, rumori di guerre, battaglie, invidia, gelosia, l'uno contro l'altro. Per quel tempo fa sentivo di un gioco all'americana di giovani che si stentevano sulle rotaie del treno e poi alzarsi all'ultimo istante che arrivava il treno. Quindi il gioco con la morte. Ma è possibile che più si può giocare con la morte? Quando non si astima della vita non solo Gesù viene messo alla porta ma vengono messi alla porta anche coloro che ci sono che noi chiamiamo nostri fratelli. Gesù come si presenta? Venendo in mezzo a noi. Si presenta io sono la via. Quindi è il luogo di stare insieme a lui ma per camminare insieme a lui è necessario lasciare i bagagli delle cianfrusaglie della vita, delle passioni della vita perché fin quanto nel nostro bagaglio portiamo invidia, egoismo, gelosia eccetera non possiamo camminare insieme a Gesù. Gesù dice io sono la verità. La verità quale? Quella che ci viene presentata dalla stampa, dai giornali, dalla televisione, dagli uomini della politica, gli uomini del commercio. Ciascuno vende la sua merce come meglio può e noi e noi dobbiamo imparare a scegliere, a valutare e a vedere ciò che veramente necessita alla nostra vita per seguire Gesù. Gesù dice io sono la vita. Gesù è colui che dona la vita. Senza di lui non c'è nulla, c'è soltanto la morte. Gesù dice io sono il servo. Gesù, il figlio di Dio, viene sulla terra per servire. Servire chi? Buoni e cattivi, indistintamente, perché tutti sono figli di Dio. E noi, qual è il nostro comportamento? E noi andiamo in cerca di coloro che ci battono le mani, perché noi siamo dei piccoli re e vogliamo essere stimati, vogliamo i primi posti. Sul suo esempio dobbiamo servire i bisogni, e lodare gli altri più che noi stessi. Il Natale nella spiritualità di Francesco era così legato a Natale da dire al suo fratello Morcone di dire se anche dovesse essere un venerdì e quindi non si può mangiare la carne non esiste questa legge. È festa, si fa festa. Padre Pio da piccolo era affascinato dal presepio e faceva, convezionava i santini, gli attori del presepio e così i magi, così i pastori, eccetera, e arricchiva il piccolo presepio della sua casa con le lumache che erano il simbolo della povertà assoluta. Gesù è il nostro amico di cammino e di viaggio. Cerchiamo di scaricarci dei nostri bagagli inutili e arricchirci della sua ricchezza spirituale.